Continuano le operazioni di montaggio delle luci d'artista a Salerno. C'è fermento e lavoro in attesa del 9 novembre, quando alla presenza del sindaco Vincenzo Napoli e del governatore della regione Campania, Vincenzo De Luca, le luminarie saranno inaugurate ufficialmente. La città si prepara ad accogliere e stupire le migliaia di turisti e visitatori che anche quest'anno vorranno far visita al capoluogo. Mentre resta top secret, ancora il tema scelto per quest'anno, alcuni dettagli iniziano ad essere svelati. Pare che per le luci d'artista, edizione 2018-2019, la villa comunale si trasformerà in un acquario ricco di piante ed animali marini. Il mare domina anche in via dei mercanti, dove proprio in queste ore sono arrivate onde meduse. Tra le altre novità, fiocchi di neve nei rioni della zona orientale, mentre in piazza Flavio Gioia verrà realizzato un tempio con una carrozza. Sono spuntati come ogni anno gli angeli nei pressi del Duomo e torneranno a breve in piazza della Concordia, la ruota panoramica e al parco dell'Irno, il villaggio di Babbo Natale. I mancabili presepi di sabbia che potrebbero per questa edizione cambiare location. Grande attenzione dunque all'innovazione e alla bellezza delle installazioni, senza dimenticare il tema fondamentale della sicurezza. In programma a breve un vertice in prefettura, mentre il primo cittadino è pronto a raggiungere i rimini per presentare ai player di settore la manifestazione.